E' partita questa terza serie degli 800 metri, ricordiamo con Facci di Marco, Olivari Paolo, Ficci Claudio, Emiliano Neri Ballati, Elia Polvi, Stefano Scuritti, Stefano Guidotti Calvi, Andrea Giulietto, Samuele Andrea Lazzaro, Alessandro Casella e Marco Filippi. E vediamo il primo passaggio sotto le tribune, Giulietto Andrea guida il blocconcino seguito da Emiliano Neri Ballati e Guidotti Calvi, però ancora compatto, Neri Ballati quindi guida guida questo blocconcino che si sta allungando mentre stiamo arrivando ai 200 metri, diciamo che tutto si gioca adesso in questi ultimi 200 metri finali, curva dei 200 metri, l'allungo di Neri Ballati Emiliano, ed ecco l'ultimo rettilineo, attenzione, Stefano Icardi, attenzione dall'esterno che sta rinvenendo, ma Neri Ballati mantiene e va a vincere con il tempo ufficioso di 1,51 e 24, secondo Guidotti Calvi, Stefano Guidotti Calvi, il primo classificato è campione italiano universitario, l'italiano universitario, dove è stato scelto metri, con il tempo di 1,51 e 24, per il bus, poi facciamo l'applauso per Emiliano Neri Ballati! Grazie a tutti!